Ciao, lasciati guidare dal piacere, goditi un togo, togo è un piacere che puoi concederti sempre perché ha un'anima delicata di biscotto ricoperta di cioccolato, togo pavesi, il piacere senza il peccato, classico, wafer e da oggi cream. Benvenuti all'inizio dell'esercitazione. Un asciugamaro, presto! Ottimo pulito comandante, ma con questa morbidezza siamo forse in crociera? Crociera? Marinaio! No signore, è la morbidezza di Bolt 2 in 1! Plus! No signore, conveniente, detersivo più ammorbidente! Con dentro l'ammorbidente, bene Marinaio, dia lei via all'esercitazione! Sì signore! Bolt 2 in 1 è conveniente, risparmierai l'ammorbidente! Oggi Bolt 2 in 1 regala in ogni pacco 5.000 lire di telefonate gratis con discali ricaricata! Bolt 2 in 1 fa risparmiare, anche per telefonare! No, non voglio far fare l'attore! No! L'ho fatto per raccontare che nella mia sfoglia metto solo le cose migliori. Come lo spetta di questi sfogliavelo? E adesso che farà? Sfogliavelo e tantufo? La pasta fresca di Giovanni Rana. Dalla trasmissione nasce Quark il mensile, dal primo febbraio in edicola a 1.500 lire. Acidophilus bifidum casei, tre fermenti vivi tutti insieme, mi... Quello stai facendo? Sto bevendo il nuovo Yomo ABC, che fa benissimo, lo beve sempre anche la mia mamma. Yomo ABC, proteggi il tuo benessere con tre fermenti in più e da oggi due nuovi gusti. Provalo! Mi balla la dentiera e ho le gengivi irritate. Prova Algasiv. Funziona veramente perché è un morbido cuscinetto con due adesivi naturali che blocca la dentiera e protegge da fastidiosi irritazioni. Facile da togliere e non lascia residui. Algasiv, blocca la dentiera tutto il giorno. Le ragazze fanno grandi sogni Forse peccano d'ingenuità Ma l'audacia le riscatta sempre Non le fa collare mai Le ragazze sono come fiori Profumati di fragilità Ma in amore sono come querce E qui dall'altra parte E qui dall'altra parte siamo noi Luce e piedi affannati siamo noi Dove e piedi affacciati siamo noi Che non ne vediamo mai al capo Il mio obiettivo Meno rughe Una pelle più rassodata Con il nuovo Plenitude Revitalift Innovazione dei laboratori L'Oreal I nanosomi di Proretinoloa Penetrano in profondità Per agire nel cuore delle rughe In quattro settimane Revitalift riduce visibilmente le rughe Anche le più marcate Ricco di parella stile Revitalift rassoda la pelle Dopo otto giorni la pelle è più soda Obiettivo raggiunto Nuovo Revitalift dell'Oreal Numero uno mondiale degli antirughe Perché io valgo